Alfonso Cipolla, proviamo a commentare questa sconfitta rocambolesca dell'Akragas contro il Castellammare. Sì, rocambolesca perché purtroppo abbiamo fatto un grande primo tempo, anche se abbiamo subito la fine, però abbiamo fatto un grande primo tempo. Siamo andati subito in vantaggio, lo potevamo chiudere con il calcio di rigore, purtroppo non è stato così. Non voglio trovare scusanti o alibi, però per delle disattenzioni, oltre che nostre, perché abbiamo le colpe sicuramente noi, principalmente, ma anche dell'arbitro, usciamo sconfitti da questa partita. Cos'è mancato oggi all'Akragas per provare a portare a casa l'intera posta in palio? È mancata un po' di esperienza, perché alcuni episodi andavano gestiti meglio e diciamo che con un pizzico di fortuna magari avremmo potuto vincere questa partita. Quanto amaro in bocca vi lascia questa sconfitta in rimonta del Castellammare? È detto bene in rimonta, perché una squadra come la nostra non può andare due volte in vantaggio e farsi recuperare, addirittura farsi superare con un gol in più. Il rammarico è lì, sta tutto lì, perché noi l'avevamo interpretata bene a primo tempo, l'avevamo messa nella giusta via. Il rammarico sta lì perché sapevamo che questo era un campo difficile, con una bella squadra organizzata che stanno a giocare a calcio. Il rammarico sta lì perché avevamo fatto una grande impresa, ma purtroppo è andata male.